Se non riuscite a comprendere che dovremmo vedere il 100% di stelle differenti dal globo disegnato a sinistra rispetto a quello disegnato a destra, allora non sono sicuro di potervi aiutare. Se la Terra gira attorno al Sole in un anno, come può essere che la stessa dopo 6 mesi quando si trova dalla parte opposta rispetto al Sole ci permetta di riuscire a vedere le stesse costellazioni, come è possibile? Quando guardiamo da qui per vedere lontano dal Sole in questa parte dello spazio, guardando diritto, rispetto a quando ci troviamo qui e guardiamo in questa parte dello spazio, sempre guardando diritto, ovvero qui, 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 questa è una delle cose che non ha assolutamente mai avuto senso per me. Come può essere che non vediamo un gruppo di stelle completamente diverse? E questa è una delle cose madornali ed ovvie su cui ognuno può riflettere, fa trasalire la mia mente. Come può essere che non... Quali spiegazioni hanno per questo? Hai qualche idea, John? No, non c'è nessuna, non c'è alcuna spiegazione per questo. Tecnicamente è il modo in cui il Sistema Solare è stato progettato. Il piano eclittico della Terra, dove si presume giri, è in contrasto col percorso dell'orbita, del Sole e del piatto galattico di 60 gradi. Questo significa che la Terra dovrebbe trovarsi a nord-est, sull'equatore galattico, diciamo all'estate, e dovrebbe trovarsi a sud-est rispetto all'equatore galattico in inverno. E adesso, come si vede in questo schema, dovremmo avere un'unica serie di stelle completamente diverse nelle notti di ogni stagione. Vediamo sempre le stesse stelle da qualche parte della Terra, sempre, durante tutto l'anno, e non c'è veramente alcuna spiegazione per questo, eccetto il fatto che gli astronomi sono apparentemente rincitrulliti, senza offesa. Penso che ogni notte le costellazioni dovrebbero essere leggermente differenti, perlomeno con degli evidenti gradi. Non penso che ci sia una spiegazione, perché ho visto che tutti quelli che l'hanno spiegato, anche se la Terra, l'asse della Terra, punta alla stella polare in ogni momento, vi trovate sempre in posizioni differenti attorno al Sole, e questo non ha alcun senso per me. Quindi, tornando qui, per mostrarvi l'idea, il Sole è al centro, e qui la nostra inclinazione, nel piccolo puntino rosso che riuscite a vedere dovrebbe darvi l'idea di dove dovreste trovarvi. Qualcuno potrebbe dire di trovarsi a 37 gradi, gli Stati Uniti, sapete, si trovano qui, da qualche parte, durante la notte, guardando dalla parte opposta del Sole, la notte è qui, la notte è qui, la notte è qui, la notte è qui. Se pensate al fatto che la stella polare si trova nella stessa direzione di questo polo nord, andiamo a zoomare per darvi un'idea, non importa quanto siamo lontani da dove ho inserito questa stella, la gente dice, è troppo vicina sulla tua scala, ma non è come se si trovasse in una distanza infinita, pertanto pensate al fatto che qui, se mi giro verso nord, vedo la stella polare, ok? Sto guardando in questa direzione, anche qui mi giro e vedo la stella polare, e tutti quelli che non vedono che c'è un problema col fatto che questa stella qui rimane sempre nello stesso punto nel cielo, indipendentemente da dove mi trovo in orbita sulla Terra, non importa che distanza è questa stella, non risolve il fatto che possa guardare in questa direzione, che non è il nord. E se sono rivolto in questa direzione, mentre la Terra ruota, mi devo girare, mi devo girare, sapete? Se guardo il nord mentre la Terra gira, giro con lei, come qui, significa che guardo in questa direzione, come qui, come qui, come qui e come qui. Quindi come fa ad esserci una stella allineata col polo nord che non cambia la sua prospettiva se mi trovo a questa distanza? Ancora questo è quanto? Diciamo circa 900 e qualcosa, 940 milioni di chilometri in orbita in un anno, e se poi aggiungete centinaia di altre cose, questo diventa un pensiero demenziale che ha sempre meno senso. Devo mostrarvelo meglio? No, no, hai assolutamente ragione e sono completamente d'accordo che durante la notte, guardando a nord, appena dopo il tramonto, guardando a nord, diciamo 12 ore dopo, all'equinozio, proprio prima che sorga il sole, dovresti guardare nella posizione opposta, sono perfettamente d'accordo che il nord è relativo sul modello di una terra a palla aereocentrica. Si tratta di una direzione relativa nello spazio, dipende da che ore sono, giusto? La stella polare è veramente una prova eccellente che il modello del globo è sbagliato e che tecnicamente si può triangolare, basandosi sulla latitudine di una sfera, si può triangolare la stella polare dal crepuscolo all'alba e non penso che potete uscire dicendo che si tratta di 40 quadrilioni di chilometri o d'alto. In realtà lo stesso risulta col sole, 5500 o qualcosa, sai il numero, Bob? Sì, 5497,35 chilometri, giusto, questo se andate a triangolare anche la stella polare. Ancora non riesco a capire perché se si aggiunge la curvatura della Terra diventano 149 milioni e 600 mila chilometri se parliamo del sole, questo non ha alcun senso. Fondamentalmente diciamo che se prendiamo due località sulla stessa longitudine ed abbiamo la stella polare qui e che sappiamo che è a 90 gradi, possiamo triangolarla. Se sappiamo la distanza da qui a qui che possiamo trovare e così possiamo trovare la distanza dal polo nord e poi diciamo che questa distanza è una distanza qualsiasi e poi abbiamo l'angolo che vediamo della stella polare dalla vostra posizione e la triangoliamo, ci dà questo risultato. Quando guardate il sole o la stella polare funziona comunque e quando fate questo vi dà un risultato di circa 5600 chilometri. Poi all'improvviso, per qualche strana ragione, se si somma la curvatura come qui, invece diventa più di 149 milioni di chilometri. Se qualcuno vuole spiegarmelo perché non ha alcun senso per me. Non ha alcun senso, non ha alcun senso. Non ha alcun senso, non ha alcun senso.